Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, ma che anche di più, io, proprio io, sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata. Si può fare! Il Signore di Viva è stato la cantina! Ciao, Shea! Oh! 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì.